Patrizia Alfano, Presidente regionale UIS Piemonte in rappresentanza di altri otto enti di promozione sportiva che hanno organizzato questa manifestazione per rappresentare tutte le associazioni che operano in Piemonte per la diffusione dello sport. Parliamo di piscine, palestre, di migliaia di istruttori che in questo momento sono in sofferenza. Vogliamo far sentire la voce dello sport di base, chiedere pari dignità con altre categorie, sostegni economici e chiedere da destino avanti decreti più giusti. Se lo sport si deve fermare che si fermi tutto, ecco. Non solo lo sport di base che coinvolge davvero tantissimi cittadini di tutte le età e che produce inclusione, salute, prevenzione e anche capacità di informare e di abituare tutti a rispettare le regole che in questo momento sono fondamentali per uscire dalla pandemia. Io sono Patrizia Sacà, atleta da 28 anni, atleta paralimpica, istruttore di yoga e allenatore di tennis. Il mio appello è che lo sport per le persone con fascia più debole, con disabilità e sopravvivenza è come il cibo. Il mio invito è proprio quello di non dimenticare le persone con disabilità, perché le persone con disabilità hanno bisogno di fare assolutamente sport. Io sono qui come donna di sport proprio a fare un appello perché le persone con sindrome d'asperger, autismo, con disabilità intellettiva e tutte le persone con disabilità motoria hanno bisogno di fare attività sportiva, non dimenticateci.